del Sovo e Dio, in tre abbiamo voluto accoglierli, sapete che ci sono 14 ospedali che sono stati selezionati, uno per ogni provincia, però noi ci tenevamo perché è anche un segno di quello che ripetiamo spesso del nostro sistema che abbiamo cognato come sistema di finanza e che ci ha aiutato tantissimo in questa circostanza sia nella prima ondata che nella seconda. Il giorno di oggi è un giorno emblematico perché è un giorno di ripartezza di un percorso che speriamo ci porti gradualmente a recuperare la normalità.